Mettere in sicurezza l'ecomostro di via Mollino e magari pensare una volta per tutte alla bonifica dell'intera area all'allarme arriva dagli stessi residenti della zona di via Barbieri, costretti da decenni a subire questa lugubre presenza che oltre a rappresentare un pericolo per i bambini vista l'assenza di recinzioni idonee a impedire l'accesso, trasforma il panorama di uno dei quartieri residenziali più moderni di Voghera in uno scorcio che ricorda le periferie più degradate d'Italia. Una recinzione che non esiste, quindi qui abbiamo i ragazzini che ovviamente per l'Italia, adolescenti, incuriositi, entrano in questi spazi, la recinzione vedete anche rotta dalla rete, entrano e tutto può diventare pericoloso. Le villette qua vicino si lamentano, quindi è un po' una situazione e soprattutto abbiamo anche un quartiere residenziale forse uno dei più belli di Voghera con questo eco-mostro che sicuramente imbruttisce tutto quello che è la realtà di questo quartiere. Questi scheletri malinconici, pieni di ferri appuntiti e mattoni pericolanti, in origine dovevano diventare villette a schiere e appartamenti, una ventina almeno, ma poi l'azienda che li stava costruendo fallì e abbandonò l'area a se stessa, lasciando una triste e pesante eredità ai residenti. I residenti di Via Barbieri ci hanno contattato per sensibilizzare grazie a voi questo problema.